Musica Benvenuti, questo è un nuovo video di teoria Oggi parleremo di un grande personaggio, incredibile, Im Sama Il suo legame con l'antico regno Per vedere così l'origine di questo re del mondo O regina, come preferite Esso è un individuo molto misterioso Che fino alla saga del reveré Non sapevamo nemmeno si stesse, non era conosciuto Un individuo di altissimo rango nel governo mondiale Probabilmente la carica più alta che c'è Anche se nell'ombra Dove addirittura i Gorosei I cinque assi di saggezza Si inginocchiano Chiedendogli la luce da spegnere Inoltre Im Sama è l'unico o l'unica A sedersi sul trono vuoto Che si trova all'interno del castello Pangea Di Mary Joa Mary Joase, come preferito Esso è considerato il centro del mondo E' un trono rosso Con lo schienale molto lungo Al di sopra del quale ci sono incise Quella che sembrerebbe essere la Grand Line Poi vi si è espresso il simbolo del governo mondiale Naturalmente, come ben conosciamo Ai piedi di tale trono Si trovano 20 armi Che simboleggiano le 20 nazioni Che formarono il governo mondiale 800 anni fa In quel posto storico Fu accordato Che nessuno mai Avrebbe dovuto sedersi Perché esso Simboleggia la pace E l'uguaglianza Di tutti i re del mondo Ebbene Nello scontro finale Secondo noi Che avverrà Fra Rufi E il governo mondiale Noi crediamo proprio Che il futuro re dei pirati Distruggerà quel trono Per simboleggiare cosa? La libertà assoluta Im Sama Che mantiene questo equilibrio Fittizio Muove i figli del mondo E ogni tanto Spegne qualche luce Il re del mondo Il re nascosto Che gestisce Quei fantocci Dei draghi celesti Im Sama Io sono Imu In greco Ego Eimi In latino Ego Sum In ebraico antico Ani Un'espressione Anche E non solo Biblica Che si riferisce all'uomo E a Dio Tanto all'antico testamento Quanto al nuovo Im Potrebbe stare anche per immortal No? Immortale I caratteri infatti Che compongono il suo nome Sono radicati in alcuni kanji Che indicano il Buddha In giapponese È la combinazione Di diversi personaggi Tipo Adamo ed Eva Qualcosa quindi di primitivo Questo potrebbe essere Un doppio suggerimento Che ora ci sta facendo Che ci prefigura Come Im Potrebbe essere in circolazione Da tantissimo tempo Addirittura Dal secolo VIII Ciò Potrebbe essere legato Al precedente possessore Del frutto Opeo Quello che adesso Conosciamo bene Essere nelle mani Di Trafarga Di Waterloo E questo Potrebbe Scaturire Da quella che è L'operazione Dell'eterna giovinezza Cosa di cui Parlava Doffi All'epoca Che voleva ottenere Proprio tramite Lo Per diventare così Il nuovo re del mondo Infatti Se ricordate Il discorso Proprio fatto Flamingo e Lo Quest'ultimo Parla dell'operazione Definitiva Che sarebbe in grado Di tornare Quest'eterna giovinezza Però In cambio Della morte Dell'utilizzatore Quindi Della morte di Lo In quel caso Ora Vi può essere Un collegamento Un'ispirazione Storica Tra quello che è Il tesoro di Mary Joas Mary Joa E il santo grande Questo è uno Di tanti esempi storici Che possiamo fare Tra i regni Realmente esistiti E Im Sama In One Piece Ci sono varie cose Che sono state scoperte A Napoli In un castello In maschio e in giurino C'è un collegamento Anche per ciò che riguarda La tavola rotonda Re Artù E inoltre Si parla Addirittura Di un libro Verso la metà Del 1400 Con precisione Il 1443 Arrivò a Napoli Un re illuminato Alfonso d'Aragona Conquistò il trono Si insediò Nel castello Egli era un uomo Di grande cultura Non solo un conquistatore Esso Viene raffigurato Su un trono Con un libro Davanti a lui C'è una fiamma Essa è un simbolo Cosa vuol dire? Essa è una prima traccia Infatti Si parla di Seggio periglioso Cioè Il tredicesimo posto Della tavola rotonda Esso Era il posto Dove vi era La fiamma ardente Lì poteva sedersi Solo Chi era in possesso Del santo graal Un oggetto leggendario Un tesoro Si parla di simbologia Ma in passato Anche così Si trasmetteva La conoscenza Alle future generazioni Le informazioni al prossimo Un esempio sono i Ponygriff Infatti Viene raffigurata Una fiamma Su di un trono Come se la fiamma Rappresenti una persona Un'entità Viene mostrato Un libro Nella sua parte esterna Mentre Il lato interno Non è accessibile a tutti Perché all'interno Vi è la conoscenza Il libro Viene accostato spesso Da Alfonso d'Aragona La raffigurazione del libro Viene messa ovunque Addirittura nell'elmo E nella corona del re In esso fu incisa una frase Importantissima L'uomo sapiente Dominerà gli astri Ciò era un messaggio segreto Che legava l'uomo Al graal Il trono Era situato poi Sopra sette gradini C'è un simbolismo Tramite i numeri Quindi possiamo annotare I vari parallelismi Fra queste vicende storico-leggendare Edimsa La tavola rotonda La tavola rotonda Dei tredici cavalieri Dei templari Rappresenta i reverie I regnanti che si riuniscono E sono tutti uguali La fiamma Ed il libro Rappresentano un'entità Un simbolo La conoscenza Tutte queste cose L'unica sopravvissuta L'unica sopravvissuta Niko Robin Passate le live Passate dalle nostre pagine facebook OnePisi Massimi Esperti OnePisi Massimi Esperti E tanto altro Nostro canale telegram Dove trovate sempre I link diretti E l'account instagram Fateci arrivare a 10k E passate anche per le nostre collaborazioni Detto questo Ci sono due opzioni Sull'origine di Im Sama La prima È che Im Sama Sia un personaggio presente Prima del secolo vuoto Che ha iniziato a conquistare il mondo Tantissimi anni fa Acquisono posti I vari membri dell'antico regno E naturalmente Quelli che erano i possessori Della volontà Della D Della D Nome Che hanno combattuto Scatenato una guerra Centenaria Per la libertà dei popoli Ma alla fine hanno perso E ha vinto Im Il fatto che Im Mantiene questo gigantesco Cappello di paglia Come una reliquia Ne pensiamo sia appartenuto A Joy Boy Quindi esso Potrebbe essere Un simbolo del Promemoria Che per lui Rappresenta I più grandi nemici Che ha affrontato E la volontà redditata Che sfiderà di nuovo Il governo mondiale E quindi poi Il potere di Im Sama Seconda opzione E questo è legato A God Valley Potrebbe essere Che Im Si reincarni Come vari possessori Della volontà Della D E quindi Ogni tot di anni Tra i draghi celesti Nasce il prescelto Sapendo ciò Rox di Xebek Voleva ucciderlo In modo tale Che Nasi sarebbe Reincarnato Il nuovo re E cosa avrebbe fatto? Sarebbe diventato lui Il re del mondo E di fatti Ci viene detto Che Roger e le Gap Dovettero combattere Insieme Per poter difendere Non solo i draghi celesti Ma anche i loro schiavi Quindi chissà Che Im Sama Non fosse anche lui lì Chissà Queste erano Le due opzioni Infine Vi faccio Un riferimento storico Agli assi di saggezza E Gorosei Che fece già Katakuri Nel video di Trafalgar di Waterloo Però io me ne appropio E ve lo ripropongo In questo momento C'è un riferimento Alla Francia del Settecento I cinque astri Sono come il direttorio In Francia Di fatti Era composto Da cinque membri Il direttorio Che è il termine Con il quale Si definiva L'organo Posto al vertice Delle istituzioni francesi Durante la rivoluzione francese Esso era composto Appunto Da cinque rappresentanti Che rispecchiavano Una sorta di capo Del governo Dal quale Dipendevano solo I ministri Subito sotto di loro Quindi un esecutivo Direttoriale E che aveva Posto fine Al governo Di Robert Speer E il terrore Se vi ricordate Avevano di fatti Un solo obiettivo Evitare Un potere assolutistico Si potrebbe fare Un riferimento Quindi A Mzano E altro Come collegamento Il direttorio Comunque I direttori Quindi Erano rivestiti Da una serie Di prerogative Simboliche Che servivano Sempre a crescere Di più La loro autorità Alloggiavano Attenzione Tutti nello stesso edificio Come a Lì A Reveria Mericiwans Nel castello Pangea Proprio Come i Gorosei Nell'esercizio Delle loro funzioni E quindi Dovevano apparire Con un abito Che li contraddistingueva Rispetto agli altri Godevano Di un trattamento Superiore Noi sappiamo Infatti Che gli assaggiati Sono al di sopra Anche Dei draghi celesti E di qualsiasi altro Funzionario pubblico Possiamo anche fare Un confronto Con i 5 minimi Permanenti Dell'ONU Se conoscete Un po' di diritti Internazionali Detto questo Il video è finito È collegato Anche al video Su Trafalgarlo Quello sulla volontà Della D E quello su Joy Boy Nel caso Ve li metterò Tutti quanti Qui nelle schede Ricordatevi Di passare Da tutti i nostri Link in descrizione Che vi ho detto Poco fa E al prossimo video Dei massimi esperti Qui c'è solo la verità Però voi Venite a dirci qualcosa Nei commenti Quello che volete Senza problema